Sì, gli avvenimenti di questi ultimi giorni denunciano una situazione oramai insostenibile nel Mediterraneo. È come se ci fosse una guerra tra le persone e il mare, una guerra che sta causando centinaia e centinaia di morti e di dispersi. Ora, questa situazione non può essere ignorata dal resto d'Europa. L'Italia sta facendo molto, sta facendo la sua parte anche grazie all'operazione Mare Nostrum, ma questa è una frontiera europea e dunque oggi qui noi stiamo a discutere proposte concrete per fare in modo che le persone non debbano affidarsi ai trafficanti. Quali alternative? Le alternative ci sono, ne discuteremo oggi, sono quelle di dare alle persone la possibilità anche di fare una domanda d'asilo nei paesi di transito. Ci sono progetti già avanzati, c'è anche una direttiva Frontex, c'è anche un mandato Frontex che può essere rivisto, una direttiva europea sulla protezione temporanea che non è mai stata attivata, quindi molte proposte, ne discuteremo qui perché ritengo che ci sia bisogno proprio di attivare un sistema virtuoso in quanto quello che sta accadendo non ci può lasciare indifferenti.